Massa, segretario del partito pensionati di Padova, in questi giorni è arrivato il grido d'allarme da parte del commissario straordinario dell'Inps Vittorio Conti, dice qua se continuiamo con la spending review noi rischiamo di andare in tilt, non possiamo tagliare ulteriormente, i servizi per i cittadini verrebbero messi a rischio, insomma un grido d'allarme che un po' preoccupa. Sì certo, quando si procede a un progetto di spending review bisogna sapere e bisogna riconoscere laddove ci sono effettivamente gli sprechi da poter tagliare e dove invece il taglio significa mettere in discussione la funzionalità essenziale del servizio di previdenza e di assistenza quello che dà un colosso come l'Inps. Tutti ci ricordiamo qual era lo stipendio del suo Presidente che adesso si è dimesso e ci sono veramente ampi margini dove si può tagliare senza dover compromettere la funzionalità dell'ente e quindi la indispensabile erogazione delle pensioni. Anche qui si può rivedere il sistema delle pensioni perché tutti sanno che ci sono 2 milioni di pensionati a 495 euro al mese e ci sono pensioni a 30, 40, 50 mila euro al mese. Anche qui c'è una giustizia da applicare. Termino dicendo che se lo Stato vuole su serio fare spendi review, basta che si ricordi che ancora esistono le regioni a statuto speciale ad ampia capacità di spesa senza controlli, che ci sono sistemi sanitari tipo quello della Regione Calabria dove non si riesce a chiudere un bilancio consuntivo e ci sono consiglieri, gruppi, consigli regionali che si autoliquidano liquidazioni e indennità smisurate senza tener conto che viviamo un momento di grossa crisi.